Una legge politicamente sbagliata, ma vista la riforma elettorale in corso di approvazione dal governo, questa sarà una presidenza di breve durata. Parole di Alfredo Ricci. A tre giorni dalla sconfitta alle provinciali di Sernia lo abbiamo incontrato nel suo ufficio a Palazzo Cimorelli. Si è detto stanco ma sereno e la serenità del sindaco di Venafro è già una notizia. Il primo cittadino, nell'elezione in cui votavano solo i consiglieri comunali, ha raccolto 306 voti, meno di 200 quelli a pannaggio del neopresidente di Via Berta e sindaco di Agnone Daniele Saia. Il risultato finale frutto del voto ponderato che ha dato più peso al voto nel comune alto molisano, tre volte superiore rispetto a quello nei comuni di Sernia e Venafro, nonostante in quelle realtà i consiglieri rappresentino un numero maggiore di cittadini elettori. Lui non l'ha fatto ma qualcuno, spiega Ricci, solleva l'ipotesi di incostituzionalità. C'è qualche collega che in realtà questa valutazione l'ha fatta e la sta approfondendo anche in questi giorni. Io personalmente non l'ho ancora guardata da questo punto di vista, valuto politicamente una legge che è sbagliata, tra l'altro approvata quel centrosinistra che oggi si è tanto affannato a conquistarsi le due province, oggi sono entusiasti ma ieri votavano quella legge e speravano l'eliminazione delle province. La verità è che però l'attuale governo, l'attuale Parlamento sta procedendo celermente per approvare una nuova legge che farà tornare i cittadini a scegliere direttamente gli organi amministrativi della provincia. Questo significa anche che questa presidenza sarà chiaramente una presidenza di transizione di breve durata. E alla prossima tornata a Via Berta, visto il buon risultato ottenuto, al netto del voto ponderato certo, Ricci, fresco di tessera di Fratelli d'Italia, potrebbe tornare ad avanzare la sua candidatura forte nelle fila del centrodestra. Ma questo forse è ancora presto per dirlo, sicuramente io come tutti i soggetti politici di questo territorio dirò la mia parte e farò le mie proposte. Certamente credo che la provincia di Sernia sia un ente che in questi quattro anni si è rivelato, devo dire, più impegnativo del previsto ma anche molto più soddisfacente di quello che potevo immaginare quattro anni fa. È un ente che può fare tanto per il nostro territorio, affascinante ma anche disagiato per tanti aspetti ed è un ente attraverso cui può passare davvero il futuro della nostra regione.